Il 28 luglio arriverà sul mercato italiano il New Nintendo 2DS XL, una nuova console portatile che andrà ad allargare la famiglia Nintendo 3DS. Ma come sarà e in cosa si distinguerà rispetto agli altri membri di questa ormai grande famiglia? Per scoprirlo siamo andate direttamente alla videogames party home di Milano dove ad accoglierci abbiamo trovato entrambe le versioni del New Nintendo 2DS XL, quella nera e turchese e quella bianca e d'arancione, e i tre videogiochi che accompagneranno il lancio di questa console. Ve ne parlo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle, io sono Erika e oggi sono in compagnia del New Nintendo 2DS XL. È bellissimo, questa è la versione nera e turchese, c'è anche la versione bianca e arancione. A me piace un sacco questo che è nero, a me piace nero. Come vedete è molto simile al 3DS XL, cambia leggermente la disposizione dei tasti, qui avete la fotocamera, qui avete il tasto home che prima invece era qua in mezzo, adesso è stato spostato e dietro potete vedere sono altre due fotocamere, ci sono tutti i tasti, qui c'è il connettore per la ricarica. A differenza della Nintendo 3DS XL all'interno della confezione troverete anche il caricapatterico, non dovete correre a comprarlo in più, è già incluso all'interno della confezione. Le differenze con la 3DS normale sono praticamente pochissime, quella più evidente riguarda appunto l'assenza del 3D, quindi se non vi piace il 3D, lo siete amati del 3D, non dovete disattivarlo, attivarlo così appiccimente, è sempre disattivato, non c'è assolutamente, così se vi dà fastidio non avete grandi problemi. Altra cosa che noterete è che è un po' più compatto rispetto al 3DS e soprattutto è più leggero, sembra di non averlo praticamente in mano, è comodissimo da utilizzare, quindi se lo portassi, siete soliti utilizzarlo soprattutto durante i viaggi, mentre siete ad esempio sui mezzi, mentre siete in aereo, mentre siete sul pullman, non lo so, mentre state aspettando la fermata dell'autobus, non è faticoso, non vi pesano le braccia, quindi non c'è nessun problema, perché come dicevo è davvero, davvero leggero e davvero compatto. Per quanto riguarda i giochi, io posso farvi vedere soltanto il Super Mario in questo momento, ma non perché ci sia solo Super Mario, ma perché gli altri giochi sono nascosti segreti, non ve li posso far vedere, ma ve li posso raccontare. Insieme al New Nintendo 2DS XL, che uscirà a luglio, arriveranno anche i Pikmi, che è un platform che abbiamo avuto modo di provare per qualche minuto, è molto carino, molto divertente, si basa tantissimo sul touch, quindi la maggior parte delle cose le dovete fare distraendo da qui lo stilo e tastando il touch appunto, cioè lo schermo che ha posto nella parte inferiore. Ho provato anche il nuovo Brain Training, quello del Brain Training infernale del Ditor Kawashima, che è una cosa allucinante. Abbiamo provato la demo, che era basata unicamente sui calcoli e non è stato particolarmente bello. Nel senso che al primo esercizio vi chiede di fare, di segnare il risultato dell'operazione precedente. Al secondo poi dovete riportarvi i risultati di due operazioni precedenti al terzo giro di tre operazioni precedenti. Praticamente è un inferno, letteralmente. L'ultimo invece che abbiamo avuto modo di trovare, che uscirà in concomitanza con la console, è Mitopia, che è un'avventura in cui i protagonisti sono i miei. Somiglia un po' a Modacci Life, sostanzialmente, soltanto che questa volta dovete guidare i vostri in un'avventura come dei nostri da sconfiggere. La cosa che ci ha colpito di più è proprio la sua estrema trasportabilità. Come vi dicevo prima, se non siete amanti del 3D, questa è sicuramente la console portatile che fa al caso vostro. Io adesso torno a giocare, perché non si può solo lavorare, ma anche un po' a giocare con il mio per adesso, Nintendo 2DS XL. Noi ci vediamo al prossimo video, voi ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un sacco di like, condividere il video, non so se l'ho già detto, ma ormai non mi ricordo più le cose all'età. Ricordatevi anche di guardare i video che troverete qui, che sono divertentissimi, quindi mi raccomando, fate bravi, fate il vostro dovere di inquilino e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!